ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati oggi ci occupiamo di synchro arts vocal line project ossia un plugin che si integra perfettamente con studio one attraverso la tecnologia ara e che ci permette di sincronizzare rispetto alla voce principale tutti i cori che abbiamo registrato vediamo subito come funziona sincronizziamo quindi ora la voce principale con la voce coro basso ascoltiamole come sono state registrate nonostante sia stata fatta abbastanza bene notiamo che alcune S e alcune T sono fuori sync ascoltiamo ora la voce principale con il coro per sincronizzare perfettamente togliamo la pausa iniziale rendere più preciso l'algoritmo di riconoscimento clicchiamo sulla voce principale edit with vocal line lo prendiamo dal menu audio dopo di che clicchiamo sempre sul coro la stessa cosa questa volta con il pulsante destro del mouse trasciniamo la voce principale in guida e la voce coro in dub riascoltiamo la traccia vento sei stato ovunque sempre le p le t le s vengono sincronizzate perfettamente riascoltiamolo vento sei stato ovunque sempre applichiamo lo stesso processo anche all'altra voce che doppia la stessa cosa vento sei stato ovunque sempre sentiamo che la p è fuori sync quindi selezioniamo ancora edit with vocal line e applichiamo lo stesso principio traccia guida traccia dub ascoltiamo vento sei stato ovunque sempre perfettamente sincronizzati possiamo consolidare ora l'algoritmo applicato selezionando la traccia del coro e cliccando sul render questo modo la traccia verrà perfettamente allineata anche in maniera visiva stessa cosa sul coro doppiato spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate di iscrivervi al canale lasciando poi i vostri commenti sotto ciao a presto iscriviti al canale